ciao a tutti buonasera spero ci sentiate siamo in diretta da cms al cern e siamo io fabio e sonia qui con me due brevi parole su di noi direi d'accordo io come detto mi chiamo fabio sono un postdoc all'accademia cinese delle scienze e attualmente lavoro qui al cern quindi vivo e lavoro nell'area di ginevra diciamo mentre invece sonia io sono più che postdoc nel senso che sono qui da molto più tempo solo questo e si sono anch'io vengo da roma e ho fatto il mio dottorato invece a ginevra e quindi mi sono stabilita qui un bel po di tempo fa e a parte la diciamo il filone della ricerca ho sempre amato molto fare questa parte di divulgazione scientifica perché penso che in realtà la fisica in generale la scienza sia possa piacere a tutti quanti e che sia qualcosa di cui tutti quanti debbano fruire quindi questo è il motivo per cui mi trovo qui dunque io come dicevo sono un postdoc dunque svolgo per lo più attività di ricerca mi occupo in questo momento del bosone di higgs che probabilmente alcuni avranno sentito nominare e in particolar modo stiamo misurando la massa del bosone di higgs il bosone di higgs può decadere in tanti diversi modi uno di questi in una coppia di fotoni cosiddette particelle di luce se vogliamo dirla in parole un po più semplici e dunque utilizzando questo tipo di regadimento cerchiamo di misurare la massa del bosone di higgs che è un parametro importante della nostra teoria chiamata modello standard non so se avremo tempo di scendere in dettagli comunque in ogni modo diciamo che questo sì è il mio principale campo di ricerca attualmente vuoi dire due parole invece per quanto riguarda me io sono partita come fisica delle particelle facendo anche io analisi dati di esperimenti qui al cern ma sempre durante il mio eh dottorato quello sono migrata in un campo che non è né riconosciuto dagli astrofisici né tantomeno dai fisici delle particelle perché è un è una via di mezzo tra la fisica delle particelle e la fisica dello spazio parlo della fisica delle astro particelle eh l'esperimento di cui insomma diciamo sono contenta di aver partecipato alla costruzione si trova attualmente sulla stazione spaziale sta prendendo dati eh si chiama AMS però ripeto mi trovo a CMS un semplice scambio di eh di di lettera proprio perché ritengo che sia importante anche fare questo tipo di connessione cioè di vedere come sono come le 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 diverse branche della scienza si possono connettere oggi il mio ruolo è quello di eh scendere e dimostrarvi quello che c'è sottoterra quindi a cento diciamo a cento metri sottoterra e e ovviamente Fabio mi aiuterà invece nella parte di superficie spiegandovi dalla eh foto a grandezza naturale che abbiamo dietro alle nostre spalle cos'è l'esperimento quali sono gli scopi degli esperimenti o mio io mi concentrerò di più su quello che c'è invece eh nel percorso sotterraneo e sulla sicurezza che ritengo che sia una cosa importante il concetto di sicurezza nei siti sperimentali eh quindi io direi che a questo punto non so se c'è una presentazione o altro io comincio a prepararmi come vedete ho un cestino della spesa che in realtà non è un cestino è un nel metto comincio a prepararmi per poter eh poi descrivervi quello che vedrete tra un pochino vi saluto grazie allora iniziamo noi da Pisa con una breve presentazione di Franco Ligabù e anche lui membro di CMS Pisa allora sì allora non so se vedete sì no ma credo che il microfono sia quello mi sentite anche da remoto eh sì qui vi sentiamo da CMS vi sentiamo perfettamente quindi vabbè faccio una brevissima introduzione mentre Sony ascende ehm non so esattamente che tipo di eh pubblico abbiamo credo che in realtà qui almeno qui a Pisa sono persone che hanno già assistito al eh al precedente evento diciamo presentazione quindi diciamo probabilmente sanno già queste cose che molto per la terra che sto cercando di dire che sto per per dire insomma eh eh non andrò molto sul tecnico allora mh brevemente insomma quindi io parto dal presupposto che che la gente che qua non sa quasi nulla allora quindi eh la lhc che cos'è è l'adron collider è un eh collisore di protoni eh che si trova appunto a tra la Francia e la Svizzera vicino a Ginevra eh che sono circolano in questo anello eh gigantesco e sono eh tenuti eh mantenuti in orbita da campi magnetici molto molto elevati di circa 8 Tesla generati da magneti superconduttori l'anello appunto è lungo 27 chilometri si trova eh sotto terra a profondità che in media è circa circa 100 metri e eh lungo l'anello disposto in lungo l'anello in in diversi punti ci sono eh quattro grandi apparati di rivelazione eh che noi chiamiamo eh in gergo esperimenti in realtà appunto sono degli apparati di rivelazione che sono collocati in punti in cui i fasci che circolano nel senso opposto si eh vengono fatti scontrare e sono gestiti da grandi collaborazioni internazionali con eh numeri di di fisici dell'ordine del migliaio però al migliaio e eh che studiano eh fanno un'attenzione di questi di questi eh apparati e studiano ehm eh i prodotti delle collisioni eh per avere qualche eh giusto un po' idea su 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 qualche numero di quelli che servono per impressionare il pubblico allora intanto in questo schemino qua vedete che che appunto al CERN i ehm l'HC che è questo anello più grande disegnato in questo schemino in realtà è eh non è da solo diciamo ci sono anche degli altri degli altri anelli e delle altre delle altre linee di in cui circolano i fasci che sono essenzialmente questo questo schemino serve per far vedere come vengono ehm ehm eh iniettati i i i protoni nel i fasci di protoni nell'HC che prima vengono accelerati da acceleratori lineari e poi vengono passano successivamente in ehm anelli di ehm prima nel PS poi nell'SPS PS e Proton Syncrotron poi eh SPS Super Proton Syncrotron sono degli anelli che erano stati usati in passato come eh esattamente come viene usato adesso l'HC cioè per fare per fare scontrare particelle per accelerare e fare scontrare e che adesso non sono stati eh dismessi ma vengono usati sono stati riciclati diciamo per eh usare come usati come rampe di lancio diciamo per i i passaggi eh che devono che i fasci devono eh subire diciamo per poter entrare a l'energia eh eh richiesta dentro nel nell'HC ehm eh qua ci sono un po' di numeri appunto che che servono eh in genere per per fare impressione sulle persone eh mille duecentotrentadue magneti superconduttori i magneti superconduttori stanno una temperatura che è eh qualcosa tipo due kelvin giusto ehm quindi per questo viene detto che questo è il posto più freddo dell'universo perché eh l'universo sta c'ha la la eh fondo a microonde che è a tre kelvin eccetera sono sono frasi dette un po' a effetto comunque effettivamente due kelvin è molto impressionante come come temperatura le ehm la temperatura è molto vicina al zero assoluto l'energia del singolo protone eh 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 vabbè eh 7000 jev corrisponde a a all'energia eh ad accelerare un protone mettendo in fila cinquecento cinque mila milioni di batterie da un numero cinque volte la velocità del singolo protone è praticamente quella della luce vedete qua il numero di nove che ci sono dopo lo zero e dire qual è la percentuale della velocità della luce e eh i fasci in realtà girano dentro questo questo anello organizzati a pacchetti cioè non sono fasci uniformi sono sono pacchetti ogni pacchetto ha circa eh cento piacerà undici protoni quindi eh cento miliardi di protoni e eh ci sono dell'ordine appunto del del migliaio di pacchetti per fascio e due fasci che si scontano la eh l'energia immagazzinata vabbè insomma che è circa uguale a quella del treno di alta velocità questo è ehm l'avrete già visto probabilmente chi ha un po' si interessa a queste cose ha già visto questo schemino già decine di volte è lo schema che riassume quello sappiamo oggi delle particelle elementari eh quindi ci sono i quark che sono le eh particelle che costituiscono i protoni e neutroni eh di cui siamo fatti noi e eh e poi ci sono i leptoni che sono ehm l'elettrone e neutrino questo per quanto riguarda la materia di cui siamo fatti noi che corrisponde alla prima delle colonne di questa di questa griglia la la prima a sinistra eh sono le particelle di materia ordinaria eh le le la seconda e la terza colonna spostandosi verso destra sono delle riproduzioni di della prima colonna che sono i quark up e down che appunto fanno i i costituiscono protoni e e neutroni la loro coppia più pesante la seconda generazione sono i quark charme quark strange corrispondentemente c'è una copia più pesante del eh o cugino più pesante dell'elettrone che si chiama muone e corrispondente mentre c'è un neutrino che eh è diverso dall'elettrino attaccato all'elettrone che è il neutrino che si chiama il neutrino del muone e ehm che è una particella neutra ma che ha le stesse certo senso le stesse caratteristiche dell'elettrone e del muone e poi invece c'è la terza generazione che è un un ulteriore copia una terza famiglia di particelle di materia sono i quark top e quark bottom sono molto più pesanti dei dei loro cugini leggeri e corrispondentemente c'è un altro lettone che si chiama tau e c'è attaccato il suo neutrino che è una particella neutra eh queste sono le particelle di materia che conosciamo poi ci sono le particelle di forza che sono si chiamano bosoni eh eh che è un bosoni per un altro motivo ma insomma sono particelle di forza che sono il gluone che è il mediatore della è legato alla forza forte che agisce eh solo tra i quark ehm il fotone che è la cella di luce che è legata alla forza elettromagnetica e lo zeta e il vw che sono legati invece alle forze deboli e queste coinvolgono sia i quark sia i leptoni ehm le forze deboli sono quelle responsabili delle eh dei decadimenti gradattivi per esempio e delle processi nelle stelle eh poi c'è e poi c'è il bosone di X di cui ehm avrete sicuramente sentito parlare che in realtà è l'ultimo pezzo della della del mosaico di 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 queste di queste particelle diciamo della schimino di particelle che era l'unico che non era ancora stato scoperto fino a dieci anni fa e eh scoperto dieci anni fa quindi adesso diciamo questo questa eh schema è completato nel senso che tutte queste particelle sono state osservate eh anche se vabbè ci sarebbe da dire che i quark liberi come forse sapete non non si possono osservare non so se lo sapete ma insomma eh non si vedono da soli eh quello che si vede per esempio nelle collisioni di il protone di cui vedete in basso a destra eh una foto diciamo di una collisione di protoni quegli oggetti che escono dalla collisione sono in realtà quasi tutti adroni adroni cosa vuol dire sono particelle composte da quark ma non sono quark liberi sono particelle fatte da due parta un quark quark o da tre quark o da trentiquark perché si studiano perché i quartasoli non possono stare d'accordo nel secondo la teoria perché si studiano le collisioni all'alta energia perché essenzialmente è l'unico modo che conosciamo per studiare come sono fatte queste particelle e quali sono le loro qualità per un motivo per un motivo semplice queste particelle per esempio quelle delle generazioni successive la seconda della seconda della terza noi non le troviamo eh tutti i giorni qua noi siamo fatti della materia della colonna più leggera perché le particelle più pesanti non sono stabili possono decadere in particelle più leggere e se possono decadere lo fanno prima o poi quindi in realtà tutte quelle che si dice esistevano secondo i modelli attuali all'epoca del big bank sono delle cadute e noi siamo esiste solo la materia più leggera perché quella non può decadere nient'altro quindi se noi vogliamo studiare quelle più pesanti le dobbiamo fare e come si fa a farle l'unico modo è fare che sappiamo è fare scontrare ad altissima energia delle particelle leggere e nella nella fisica moderna è vero questo che c'è scoperto che è vero questo che si può far scontrare delle particelle leggere e produrre delle persone più pesanti dico sempre che come fa a scontrare due due automobili e invece di fare uscire pezzi di automobili escono navi cioè cose più pesanti degli oggetti che sono scontrati d'accordo e e quindi facciamo così è una maniera un po brutta però insomma uno muta insieme del fa scontrare delle particelle leggere escono tantissime cose praticamente tutto quello che si può fare secondo le leggi della fisica si fa che non poi soluzioni statistiche di probabilità e quindi uno può studiare tutto lo studiabile guardando quello che viene fuori inutile citare la famosa massa uguale energia energia uguale massa c quadro perché ve lo sanno mai tutti questo per esempio è una foto tra virgolette del di una collisione del 2012 tra portone e protoni appunto le linee gialle che vedete rappresentano le traiettorie di particelle che sono uscite da da un frammento di questa collisione tra due protoni le tracce che vedete evidenziati in rosso e in verde sono state interpretate come dovute a due particelle muoni che sono i cucini pesanti elettroni e due elettroni in realtà un elettrone antilettrone un muone un alti muone guarda questa è questa collisione questo prodotto di questa collisione è stato interpretato come un possibile dovuta un possibile decadimento di un bosone di x prodotto nella collisione che è decaduto due bosoni z i quali a loro volta sono decaduti in un nel più e meno e l'altro in un più o meno non è più non è negativo quindi questo è il tipo di studio che si fa si guardano queste cose si cerca interpretare cosa c'è dentro per fare questo uno usa queste appunto rivelatori giganteschi vedete domino in basso per farvi vedere la ma poi vedrete anche nel collegamento dal cerno avete non troppo non si potrà vedere direttamente perché non possono scendere fino all'esperimento però c'è la foto in grandezza naturale quindi vedete la grandezza di questo oggetto e questi apparati sono costruiti da rivelatori che sono oggetti che che fotografano diciamo queste queste collisioni e sono fatti a strati concentrici viene detto di solito a cipolla io di solito invece dico porro perché è più o albero perché le cipolle sono sferiche questi cilindrici però sono sono strati cilindrici concentrici e l'idea è che gli strati sono concentrici perché sono fatti sono hanno proprietà diverse questi strati in modo che a seconda del come sono fatti fermano o diciamo fotografano o identifica aiutano a identificare tipi di particelle diverse allora per esempio adesso facci sono questi ricordi animati questa è una fetta uno spicchio una fetta del porro d'accordo e vedete che c'è sono sono da il centro e a sinistra e man mano che si fa verso destra si va verso l'esterno della del rivelatore quelle freccine che ci sono per questo non so se vedete la mia la mia freccina se mi si muove questo questo oggetto qua che questo punto bianco piccola quella croce e questo punto bianco qua col puntino indicano che è la direzione del campo ma c'è un campo magnetico che è diretto entrante nella nella regione a sinistra ed è uscente nella regione a destra perché è fatto da un solenoide insomma quindi entra e poi esce cambia segno e vediamo cosa succede quando passano vengono prodotte dal centro dalla collisione vari tipi di particelle per esempio se viene prodotto un muone è questo qua si accende la scritta nuone i muoni hanno questa bella caratteristica che sono carichi quindi lasciano una scia diciamo nei rivelatori che hanno la capacità di vedere dove passano le particelle cariche e però non si fermano tirano dritti infatti adesso noi siamo attraversati in questo momento da decine di muone secondo non so esattamente quanti ma insomma tanti muone secondo che ci arrivano dallo spazio ci attraversano e poi in realtà vedete voi avete visto quello che è successo cioè la particella ha fatto così in realtà quello che si vede nel rivelatore è questa cosa cioè nel prima prima parte che si chiama tracciatore la parte più interna si vede proprio una serie di puntini che provengono un tipo settimana enigmistica e si fa la traccia poi invece passa attraverso gli altri non lascia praticamente nulla e invece ci sono quelle parti esterne che sono fatte apposta per i muoni lì ci arrivano solo i nuovi che vi dicono che è un muone perché è passato di lì essenzialmente se non si è fermato prima era un muone d'accordo e viene ricostruito ricostruendo poi la s che ha fatto questa cosa qua dalle leggi del del magnetismo eccetera eccetera si riesce a capire quanta era la sua energia in realtà poi cosa succede se invece c'è un elettro passa viene prodotto un elettrone che è questa traccia rossa vedete curva nel campo magnetico perché è una traccia è una una carica elettrica quindi curva nel campo magnetico e si ferma nello strato azzurro che si chiama calorimetro magnetico perché è un oggetto che ferma gli elettroni e i fotoni si fermano lì quindi se uno se uno vede scusate no vede delle una traccia nel tracciatore vuol dire che era una particella carica e poi si è fermata nel carico metodo magnetico era un elettroni adrone carico vuol dire una particella tipo pesoni pi greco sono i cap eccetera eccetera vuol dire oppure protone per esempio viene prodotto lascia una traccia nel tracciatore che rivela le tracce cariche e si ferma nell'alto strato che si chiama carino tronico perché ferma gli adroni passano dal primo calorimetro ma vengono fermati dal secondo d'accordo dal primo strato poi altra cosa invece se è un drone neutro esempio un neutrone viene prodotto non lascia tira dritto nel campo magnetico non lascia nessuna traccia e si ferma nel carometro adronico non si ferma nell'altro magneto il fotone invece non lascia nessuna traccia ma si ferma nel carometro elettromagnetico quindi lascia un segnale nel carometro e questo è un esempio delle particelle che si riescono a distinguere del perché ci sono questi strati adesso però io ho finito perché lascio parlare a loro perché adesso vedete queste cose purtroppo non le vedete devo fare stop sharing purtroppo non le potete prevedere diciamo toccare con mano no vedere sonia che tocca con mano ma toccherà la foto qualcosa del genere ok grazie franco io riderei la parola al cern ma non vedo ancora la sonia non è ancora arrivato giù ma sta scendendo a piedi sonia sta per spostarsi in control room e credo che partirà dalla control room per poi scendere in caverna sperimentale perché infatti sentite sì 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 l'esperimento ok allora io no no semplicemente volevo mostrare il percorso per arrivare in control room perché questa è l'assembly hall vi mostro dove dove sto lasciando fabio con questo grande poster dietro che ha grandezza naturale quindi fabio se alzi le braccia vediamo quanto è grande il poster vedete è praticamente un palazzo di cinque piani quello che aveva che ha dietro io adesso esco fuori e vi mostro il percorso e vi faccio vedere velocemente la control room ecco una veduta della zona francese limitrofa a ginevra oggi non è un proprio un bellissimo tempo e fa piuttosto freddino cosa cosa fa da voi che temperatura c'è da voi eh brutto tempo anche a pisa non so forse a bari ma non non penso abbiate sette gradi no no ecco diciamo che da noi ci sono già sette gradi comunque mi sta quello verrà magari per i ragazzi per i liceali per chi ha fatto latino nel passato lo sta facendo nel presente quello è il giura quello di cui parlava giulio cesare ok che divide la zona degli elvezi da quella dei francesi quindi io quando ho visto il giura mi sono diciamo avuto come dire una certa emozione anche quello da cui deriva giurassica e ha dato un nome all'era giurassica esattamente dunque un paio di parole da parte mia intanto che sonia arriva in control room come vi dicevo all'inizio mi trovo a cms siamo a cms magari due parole su che cosa significa cms cms significa compact muon solenoide vale a dire solenoide compatto per muoni credo che avremo l'occasione di tornarci magari chi è curioso di sapere il perché gli è stato dato questo nome ce lo potrà chiedere ad ogni modo credo che sonia sia quasi arrivata in control room sonia ci senti forse non ancora allora due parole sul nome solenoide compatto per muoni vi è stato detto che questo cilindro è piuttosto grande in effetti ha un diametro di 15 metri di lungo 20 quindi compatto potrà sembrarvi un po strano ma effettivamente se comparato all'altro grande esperimento concorrente tra virgolette una concorrenza molto amichevole chiamato atlas che effettivamente è composto da grandi spazi vuoti cms come forse potete vedere dal poster che ho alle mie spalle è sostanzialmente tutto occupato da materiale rivelatore di particelle ed è per questo che lo chiamiamo compatto non è tanto per le dimensioni quanto per la densità di strumenti e strumentazione che lo compone fabio scusa mi senti adesso perché sì perché ero sì perché non si sentiva bene quindi io adesso mi trovo nella control room volevo solo approfittare per far vedere un po qual è la situazione qui così poi nel frattempo ti lascio di nuovo la parola io posso scendere invece direttamente nella parte sperimentale dunque qui abbiamo di fatto abbiamo due stanze una è questa qui ve la faccio un po vedere ok questa è una delle stanze e l'altra è forse la vedete oltre il corridoio dall'altra parte e in effetti sono due stanze che come vedete sono piene di computer che servono proprio la gestione di tutto l'esperimento diciamo che questa è come una grande nave se vogliamo e qui abbiamo il comandante in capo cioè quello che noi chiamiamo lo shift leader che si occupa appunto che responsabile di tutto il gruppo di lavoro e poi abbiamo i vari esperti della presa dati vedete ci sono vari schermi adesso non mi metto a spiegare totalmente ma per esempio questo schermo qua qui sopra aspettate che cerco un attimo di inquadrarlo meglio è uno schermo che mostra non so se posso andare più vicino mostra lo stato in effetti del dell'lhc ci dice che c'è adesso mi faccio aiutare da noemi che mi sta aiutando ecco che mi dà una mano mostra il fa come vedete forse potete leggerlo c'è proton physics stable beam che significa appunto che abbiamo il fascio i fasci sono composti appunto da protoni queste particelle che troviamo all'interno dei nuclei degli atomi e vedete dal grafico forse riconoscete che abbiamo delle delle diciamo dei segnali blu e rossi che rappresentano appunto due fasci che si muovono in quegli anelli che avete visto all'inizio in senso opposto e poi nei in quattro punti speciali che sono appunto questi punti dove abbiamo messo questi rivelatori queste enormi macchine fotografiche li facciamo scontrare e otteniamo quelle che sono le collisioni da cui prendiamo ovviamente eh le informazioni che ci servono per capire un po' meglio come funziona il nostro universo ehm adesso procedo vi faccio vedere anche ovviamente l'esperimento che continuate a vedere immagino nella nella grande figura che è dietro Fabio in realtà è come dire è una specie di piccolo bambino per cui bisogna fare il babysitting a tutte quante le parti vedete composto come diceva Fabio di tanti strati poi continuerà a parlarvene e quindi se qui abbiamo la parte che gestisce i dati che prendiamo dall'altra parte invece abbiamo le persone che si occupano dei vari settori un po' come quando in un ospedale avete il pediatra per i bambini avete non lo so il gastroenterologo una parte del corpo l'oculista eccetera eccetera quindi qui abbiamo i vari settori normalmente adesso qui è coperto ma c'è non si riesce a vedere normalmente questo schermo adesso ha un qualcosa davanti ma se riuscite a intravedere questi segni rossi eh c'è scritto ECAL che sarebbe il calorimetro elettromagnetico che corrisponde più o meno alla zona blu della della grande della grande figura che è alle spalle di di Fabio io adesso non inducio molto qui perché non voglio disturbare eh le persone oltretutto qui siamo tutti come vedete mascherati cioè dobbiamo usare la maschera che non è la cosa migliore quando uno si eh diciamo così si muove ecco l'ultima immagine che vi do della control room è questa delle bottiglie perché? Eh perché noi fisici non siamo persone tristi quando c'è un'occasione cioè cerchiamo di festeggiare il più possibile quindi abbiamo bottiglie di vino bottiglie di di champagne insomma ogni occasione buona per festeggiare l'inizio della presa dati il primo fascio aver riacceso l'esperimento e tante altre cose quindi diciamo che in qualche maniera non facciamo altro che ehm lavorare ma anche eh gioire dei nostri risultati e dei nostri progressi grandi o piccoli che siano adesso mi dirigo passo due stanze e mi dirigo invece verso l'entrata nel momento in cui sarò entrata dentro faccio la descrizione Fabio poi ti do la parola perché sai bene che la connessione sparisce eh penso che per spiegare l'entrata eh che ho qui davanti la cosa migliore sia quella di dare la la camera a Noemi e mostrarvi come lo faccio penso che la la pratica sarà migliore quindi eccomi qui mi vedete abbia ho un un lettore e questo lettore mi permette di farmi riconoscere riconoscere attraverso questo che è il mio dosimetro personale un dosimetro personale serve per farmi riconoscere ma è anche un oggetto che permette di viene con me e quindi misura tutta la radiazione piccola perché è piccola ma che può esserci e dobbiamo controllarlo questo in particolare una volta al mese per vedere per essere certi che non abbiamo non siamo stati sottoposti ad una quantità di radiazione che può essere nociva in realtà i livelli sono più bassi che se io facessi un viaggio aereo c'è gente che ha viaggiato con questo un aereo essendo se lo dimenticato ed è stata chiamata poi dal servizio eh medico del CERN perché effettivamente eh c'era una quantità di radiazione che normalmente noi non vediamo mai qui ora eh io mi faccio riconoscere farò tre tipi di di controllo uno è un controllo di peso non so se riuscite a vederlo vedete un quadrato con tanti puntini fatto da tanti puntini gialli e quello permette di di riconoscere che siamo che è una persona che entra perché questa porta è per le persone non per il materiale il secondo controllo è quello eh che nel momento in cui sono interna le porte un po' come le porte delle banche ci sono dei eh fasci dei dei fasci infrarossi che servono per rivelare il fatto che io non entro per esempio con uno zaino perché ovviamente gli umani sono intelligenti quindi dicono non mi fai mettere il materiale dentro me lo metto sulle spalle questo non va bene lo stesso eh e infine l'ultimo controllo che è quello personalizzato è quello dell'iride cioè il controllo biometrico forse qualcuno di voi ha visto si ricorda il film angelo e demoni in cui c'era quella scena cruenta di un occhio non voglio scendere in dettagli vi comunico che gli occhi sono due però vi comunico anche che per potersi far riconoscere bisogna che circolo diciamo che circoli il sangue insomma gli occhi devono essere vivi quindi quello che avete visto nel film era Hollywood eh non quello che succede veramente qui però è un controllo biometrico personale e quindi mi faccio riconoscere perché al CERN sanno qual è la mia iride ora vado sperando che tutto funzioni la porta si apre e provo ad entrare congratulazioni grazie mi continuate a sentire Fabio mi senti ti sentiamo perfettamente sì ecco adesso io sto aspettando Noemi eh in realtà confesso tanto siamo soltanto io e te Fabio confesso che in realtà questa operazione io la lascio fare a Noemi con la camera eh approfitto di questa situazione perché lei è bravissima a far passare questo oggetto perché in realtà non dovremmo farlo passare io no io ogni volta devo fare l'entrata quattro volte quando porto la la camera eccomi qua sono ancora qua sono quasi pronta per poter per poter eh scendere sotto vi presento che cosa c'è qui allora nella zona verde lì qui abbiamo altre due porte d'entrata di accesso eh io ho preso quella dalla dal lato opposto ma ce ne sono altre due quindi come vedete possiamo accedere eh molte persone possono accedere contemporaneamente da dove si fa entrare il materiale perché ovvio che bisogna portare materiale anche sotto da questa porta blu e qualora decideste di venire a visitarci cosa che io spero eh sappiate che non potendo non avendo noi il lì la l'iride depositata vi facciamo passare attraverso la porta del materiale ci dispiace ma è l'unica maniera di poter accedere opposta alla porta del materiale abbiamo l'ascensore che Noemi gentilmente ha già chiamato eh allora vi dico subito la diciamo che la numerazione dei piani è molto semplice zero la superficie poi abbiamo meno uno che è un si ferma diciamo a meno ottanta più o meno meno ottanta metri abbiamo eh meno due a meno circa almeno novanta metri e il meno tre che meno cento ora l'ascensore come vedete velocemente sta salendo io entrerò nell'ascensore ehm e Fabio ti darò ti darò la linea appena te ne accorgerai appena non mi senti più eh rimanendo con l'immagine sulla sulla discesa sul lettore di discesa eccolo qui un'ascensore grande come vedete per per persone quindi noi partiamo almeno due andiamo a meno ottanta meno due e ci vediamo sotto a te la parola Fabio buon viaggio grazie grazie dunque io mi trovo qui di fronte al poster di CMS come dicevamo prima e quindi forse è una buona occasione per parlare un po' di come CMS funzioni di come le particelle vengono rivelate io ho un puntatore laser che spero voi riusciate a vedere quindi vi indicherò i vari componenti come dicevamo una sorta di cipolla cilindrica quindi partiamo dagli strati più interni qui esattamente al mezzo c'è la cosiddetta beam pipe pipe vuol dire tubo in inglese sostanzialmente è il tubo all'interno del quale circolano i protoni di LHC dopodiché esattamente nel cuore di CMS che dunque nel cuore di questo cilindro i protoni vengono fatti scontrare e dallo scontro nascono le particelle che noi riveliamo con tutti i vari strati del rivelatore il più interno attorno alla beam pipe che ripeto è questa è il tracker o tracciatore in italiano è questo strato che sto appuntando è fatto da milioni di piccolissimi moduli di silicio che quando attraversati da particelle cariche in sostanza le rivelano il meccanismo è il seguente una particella carica che attraversa questo silicio libera della carica elettrica all'interno del silicio che viene raccolta e trasformato in un segnale elettrico quindi in sostanza ciascuno di questi innumerevoli pixel di silicio può accendersi quando attraversato da una particella e quindi dirci dove la particella è passata quindi in questo modo tracciamo come dice il nome tracker la traiettoria delle particelle dopodiché abbiamo lo strato più esterno che è questo quello che voi vedete qui in blu è lo strato dei calorimetri i calorimetri come vi è stato detto sono di due tipi elettromagnetico e adronico sono di due tipi perché rivelano due tipi diverse di particelle che interagiscono secondo due tipi diverse di interazione il calorimetro elettromagnetico rivela fotoni ed elettroni mentre il calorimetro adronico che è la parte più esterna rivela invece adroni sono particelle di cui forse avete meno familiarità ma potremmo discuterne in futuro se avrete domande a questo proposito mi muovo velocemente allo strato ancora più esterno che è questo qui in grigio questo è il magnete è un solenoide il che vuol dire in sostanza detto un po brutalmente una bobina di materiale conduttore quindi immaginate un cavo anche se molto più complesso di così questo campo magnetico generato dal magnete è direi una delle parti principali dell'esperimento perché ci permette di curvare le particelle cariche una particella carica sì ah no volevo fare solo un check se mi sentivi e scusami non posso non posso resistere lo so che tu hai detto in maniera molto professionale il solenoide io lo penso come un cannolo siciliano senza crema dentro un bel cilindro vuoto la forma la forma devo ammettere che vero vero ricorda ricorda prego ti lascio finire poi dopo riprendo la parola da qui grazie del resto quasi finito dunque dicevo il magnete parte fondamentale dell'esperimento perché curva la traiettoria delle particelle cariche e misurando la curvatura delle traiettorie con il tracciatore ad esempio riusciamo a risalire una quantità molto importante per noi fisici che è la quantità di moto diciamo indicativamente il prodotto fra massa e velocità delle particelle che rivediamo e per finire questo strato piuttosto spesso e diciamo in colori tra il grigio e il rosso è il rivelatore di buoni il nome di cms compact muon solenoide quindi il nome muone fa parte del nome dell'esperimento questo vi lascia intuire che i muoni sono un tipo di particella molto importante questo ultimo strato rivela appunto i muoni con dei meccanismi abbastanza complicati che però se qualcuno è curioso potrò provare a spiegarvi vi dico una parola sul perché ci interessano i muoni e poi lascio la parola sonia vi ho nominato il bosone di higgs all'inizio quando mi sono presentato come voi sapete questi esperimenti sono stati costruiti anche o forse soprattutto per scoprire questo bosone di higgs ora il bosone di higgs può decadere in tanti modi diversi ma uno di questi è in due bosoni z che avete visto nel diagramma della presentazione iniziale e ciascuno di questi due bosoni z può decadere in due muoni quindi una firma del bosone di higgs è quattro muoni nel vostro rivelatore la cosa interessante è che al di fuori del decadimento del bosone higgs in sostanza ci sono pochissimi altri processi che possono darci quattro muoni nello stato finale questo vuol dire che se vediamo quattro muoni in cms beh quello molto probabilmente è un decadimento del bosone di higgs e quindi è uno dei modi che noi tra virgolette preferiamo per scoprire il bosone di higgs prima del 2012 e al giorno d'oggi misurarlo con grande precisione direi che sonia tu sei arrivata sì sono pronta e quindi ti lascio la parola nella tua chiarissima spiegazione mi piaceva dire io non so se va ancora di moda il personaggio di zorro però mi piace dire che io lo guardavo appunto che il bosone di higgs al posto di mettere una sola z ne mette due e decade in due muoni quindi mette due z quando vediamo due z di fatto possiamo dire che una delle maniere di riconoscere il bosone di higgs detta questa cosa questa citazione storica mettiamola così io sono uscita dall'ascensore mi trovo in questa area adesso questa è un'area di sicurezza noemi me la ve la sta mostrando di fatto se ci fosse un'emergenza possiamo anche se non saliamo in superficie rimanere in quest'area perché perché come vedete abbiamo delle porte ignifughe che ci proteggono da eventuale fuoco ma eh l'aria viene anche spinta fuori da questa stanza quindi si dice che in sovra pressione per cui se c'è fumo o c'è per esempio una una perdita di gas di qualsiasi genere al di fuori non può entrare dentro la stessa sicurezza viene applicata sull'ascensore questo è il motivo per cui una delle poche cose diverse da quella della vita di tutti i giorni è che se si deve evacuare da questa zona io mi trovo adesso a meno novanta quasi meno tantasette lo si deve fare usando l'ascensore e non come si dice comunemente nella vita di tutti i giorni attraverso le scale le scale non sono protette il nostro ascensore come gli ascensori di tutti gli esperimenti dell'LHC invece è protetto e quindi dobbiamo usare l'ascensore io adesso visto anche un po' il tempo procedo direttamente dentro mi faccio seguire da Noemi e come vedete entro nella vera e propria zona sperimentale una sola cosa sola che volevo farvi vedere prima di andare direttamente nel punto più lontano che possiamo raggiungere è questo punto qua non so se a quanto sia chiara l'immagine me lo confermate voi si può vedere sotto forse riuscite a vedere una zona scura con delle con delle strisce gialle e nere ehm ed è quello il meno cento il livello più basso che abbiamo e poi c'è una parete tutta grigia dei blocchi grigi in realtà quei blocchi eh nel periodo ogni anno tra gennaio e eh marzo vengono rimossi perché di fatto è un grande corridoio che permette da questa zona dove sono io di accedere direttamente alla caverna sperimentale dove c'è l'esperimento ovviamente quella è una è un accesso per lavorare abbiamo anche altri accessi per diciamo per le persone questo è un accesso piuttosto materiale in questo momento è chiuso perché si stanno prendendo dati quindi ci si protegge da questo background da questo fondo minimo di radiazione ci si protegge appunto con dei blocchi di cemento Noemi ci sta mostrando cioè sta dimostrando che effettivamente io non sto parlando dalla superficie dalla stanza accanto a Fabio ma sono veramente a meno 90 qui si vede questo grande pozzo lo chiamiamo noi e si vede la parte di superficie io adesso mi dirigo oltre questa porta cosa abbiamo lo dico qua perché dentro voi non sentirete rumore ma io tanto eh è una stanza piena di eh elettronica e quindi di fatto voi sapete che come tutti gli oggetti elettronici di fatto eh produciamo tanto calore e quindi bisogna raffreddarli altrimenti non funzionano quindi ci sono tanti ventilatori che fanno molto rumore questa stanza che viene chiamata una canteen room cioè una una stanza di conteggio in realtà ne ha una sorella diciamo così al piano superiore che è il meno uno il meno ottanta e cosa c'è dentro? Ci sono tanti moduli tanti cavi vedrete lascerò poi magari a Fabio mentre io torno su di parlare di dare qualche dettaglio eh quindi fibre ottiche, capi standard, tutto ciò che serve per prendere i segnali della caverna sperimentale cioè dall'esperimento e portarli fuori per poter essere poi interpretati, elaborati successivamente anche in superficie e forniti poi all'utilizzo dei fisici che fanno le analisi per scoprire per esempio come ha detto prima Fabio come fa lui il bosone Riggs quindi adesso entro faremo un piccolo giro ma poi continuerò c'è qualcuno che sta uscendo come vedete abbiamo dei visitatori vi lascio passare e noi entriamo venite con me allora come vedete ci sono tanti armati adesso non entro nel dettaglio mi piaceva solo darvi una piccola chicca per farvi vedere voi non siete qui ma effettivamente vedete questo pannello questo dice che non possono andare ai visitatori allora siete in una visita virtuale ma noi andiamo i visitatori qui non ci sono venuti quelli che avete visto di persona noi invece ci veniamo quindi voi state approfittando di una visione di CMS che è qualcosa che venendo di persona non potreste vedere eh diciamo che questo è il nostro piccolo regalo per compensarvi del fatto che non siete qui presenti ovviamente se fossimo potuti entrare anche nella caverna cosa che non possiamo fare a causa della presa dati avremmo fatto la stessa cosa vi avremmo portato anche in zone che normalmente non sono permesse a ai visitatori che vengono di persona questo è il vantaggio di poter avere una visita virtuale io adesso insieme a Noemi procediamo per andare un po' veloci mi seguite eccomi qua come vedete ci sono tanti altri corridoi e vi vi chiederei di guardare un po' la allora io non so per me un senso estetico la bellezza del cablaggio eh che cosa intendo dire ecco questa è una parete dove non ci sono altro che cavi cavi di eh diciamo di alimentazione li chiamiamo così eh per alimentare i vari sistemi sono cavi di alta tensione ma guardate la precisione ogni cavo ogni è curvato in una certa maniera la lunghezza è anche misurata non bisogna diciamo così né metterli troppo tesi né troppo lenti se vogliamo quindi eh e ognuno ha la sua etichetta per poter essere riconosciuto bene questa per me è una specie di metafora di una parte come avete visto un fisico sì è quello che blinda ma è anche uno molto preciso e meticoloso ehm per i giovani che volessero magari intraprendere questa cosa questo è un tipico lavoro che facciamo fare ai giovani perché sono più bravi dei vecchi come me e che noi perdiamo la pazienza questa questa porta rossa che vedete qui eh come si può vedere anche da questa diciamo dalla forma ricorda il tunnel dell'LHC effettivamente oltre questa porta c'è un corridoio e possiamo accedere alla al tunnel dell'LHC ma il significato di questa porta qui non è l'accesso all'LHC cioè all'acceleratore eh tant'è che la porta è sigillata non possiamo aprirla allora perché c'è perché se guardate questo pannello vedete è chiusa questa porta e se guardate questo pannello potete vederlo subito questa è di una uscita di sicurezza lo vedete anche dal dal pannello verde qui quindi io sono venuta dal dal percorso opposto qualora ci fosse un allarme evacuazione non potessi rifare lo stesso percorso posso usare questo percorso da quest'altra parte potesse chiedermi ma eh ti porta all'LHC beh no prima di arrivare all'LHC c'è un altro ascensore ora eh se voi vedete mi trovo esattamente in questa zona e c'è un corridoio che mi separa che porterebbe alla zona sperimentale allora innanzitutto vi invito a vi faccio vedere un ho un rivelatore molto costoso devo dire mi c'è voluto tanto per costruirlo per favore non vedete ok le vedete sono delle graffette che non sono per niente magnetizzate un rivelatore questo perché la fisica fisica vuol dire natura e la fisica si fa con tutto chiaramente non posso fare misure di precisione ma può permettermi di fare varie cose questa cosa allora innanzitutto andiamo a vedere se sentiamo il campo magnetico del nostro rivelatore quindi vediamo se si lo metto un po' a ecco così così vediamo come si curva questa graffetta non so se riuscite ad apprezzare come sta cambiando certamente non sono io e vedete guardate come viene a tratto un attimo che mi metto a favore di camera vedete come cambia e come viene a tratto se non mi credete lo attacco anche qua dovrebbe funzionare normalmente funziona abbiamo il do we have the nominal one ok strange work normally alla tua sinistra ci sono alcuni tubi gialli dove di solito mi diverto da prendere sei graffetti ma a me piace fare questa cosa qua vedi eh sì 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 grazie Fabio faccio questa cosa qua potrei fare vedete come è magnetizzato poter fare questa la vedete vedete come come vengono attratte queste cose lo vedete ok ve ne faccio un'altra questa parete qua perché tanto più di qua non posso andare questa parete non è magnetica ma le due viti qua lo sono per cui possiamo fare quella che io chiamo la bilancia magnetica che in realtà quello che vi sto raccontando sono incidenti di percorso che mi sono successi portando le persone cioè non l'ho fatto apposta non è che ci ho studiato sopra per poter fare queste cose ma sono successe e io mi ci diverto questo è praticamente la chiamo una bilancia magnetica dove io io ora voi non so se riuscite a vederlo ma io spingo eh la catena e questa mi riporta sulla mano ok vedete l'oscillazione allora sappiate che con questo semplice oggetto una volta volevo fare esattamente questo che cosa è successo mi continuava a cadere per terra non capivo perché l'ho fatto una volta pensando di essere distratta io due volte tre volte alla fine ho capito che il peso della mia catena era molto troppo era maggiore della forza magnetica che lo teneva su quindi ho rimosso alcune graffette alcune di queste l'ho riattaccato ha funzionato quando ho finito sono salita nella control room che avete visto prima io ho chiesto al allo shift leader cioè al capo gli ho detto cosa sta succedendo con il campo magnetico perché mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava e lui mi ha detto tu come fai a saperlo e gli ho detto beh perché ho fatto questa cosa e non funzionava di solito funziona con un certo numero di graffette e lui mi ha detto sai che stiamo eh utilizzando la metà del campo magnetico quindi con questa semplice catenella come vi dicevo sono riuscito a capire che il campo magnetico che c'era in quel momento non era quello usuale vi faccio vedere anche le due piccole cosine vi spiego la porta e poi torno su allora le altre due piccole cosine che volevo mostrarvi sono le seguenti una è questa ed è di fatto la bussola non so se posso chiedere a Noemi can I have your just more your mobile phone vi faccio vedere la bussola che ovviamente non è una bussola che è sensibile al campo magnetico terrestre ma a quello che viene da questo lato dove c'è l'esperimento ed è questo qua guardate un po allora la graffetta vedete che aspettate la metto la metto un po meglio vedete che rimane di fatto sempre nella stessa direzione anche se io ruoto il telefonino perché la graffetta mi sta dicendo quando sono le linee del campo magnetico non le vedo ma ci sono posso provare a spostare la graffetta allora se la sposto di centottanta gradi la graffetta come vedete resta sta normale ma se provo a spostarla di novanta gradi vedete che non ci vuole andare vedete di un angolo retto non ci vuole andare perché perché le linee del campo non sono in questa direzione ma sono soltanto in questa direzione questa non è altro che una bussola che però ripeto è sensibile al campo magnetico che noi abbiamo in questa direzione questa qua immaginate questo esperimento in questo angolo a trenta metri più o meno l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa qui sempre con le graffette perché come vedete si può fare tantissimo con oggetti semplicissimi eh è di fatto quest'altra cosa che mi è successa veramente sempre come un incidente ed è la questa qui non so se riusciamo a farla con noemi ora vedete che le mie graffette sono tutte quante attaccate eh ok eccole le vedete si sono già messe nella posizione giusta guardate cosa succede qua le vedete non so se riuscite a vederle can they see this non so quale sia la risoluzione di queste graffette io le vedo le vedi bene sì ok guardate allora qui c'è ovviamente c'è una zona metallica ma la cosa curiosa è che succede anche normalmente forse di qua in this sense vedete qua se le metto qua sono anche sul pavimento le vedete vedete come si muovono e se voglio mi posso anche divertire in questa maniera riprendo la graffetta che avevo prima no the big one is better stiamo facendo la pesca le graffette qua le fermo ok la fermo una qua una qua e un'altra scusate la fermo qua è troppo sensibile il campo magnetico qui ecco la fermiamo e adesso guardate non tocco e riesco a muoverla questo ancora perché ovviamente abbiamo il campo magnetico io sto agendo attraverso il campo magnetico per muovere la mia graffetta lo vedete e la stessa cosa faccio anche qua vedete ok ci siamo divertiti un po con le graffette e quindi prima di ritornare sopra che di fatto abbiamo quasi finito raccolgo perché non voglio lasciare le tracce di queste graffette qui ovviamente questo va ripulito ecco qua abbiamo finito vi dico soltanto questo questa è la porta che noi usiamo per entrare quando è possibile entrare vedete che c'è un corridoio questa porta funziona esattamente come quella che avete visto sopra verde cioè devo fare gli stessi controlli diciamo che qualche volta posso entrare anche con un accesso particolare vengono liberate delle chiavi si può entrare da questi cassetti vengono viene consegnata una chiave che una persona può eh utilizzare per entrare dentro in questo momento vedete che tutto chiuso tutto closed ferme no entry padan tre e quindi ci dobbiamo fermare qui questo è l'ultimo diciamo il posto più lontano eh più vicino alla caverna è più lontano che possiamo eh raggiungere io penso di tornare indietro Fabio anche visto il l'orario e e quindi ti lascio la parola e ci ritroviamo sopra se sei d'accordo benissimo ti aspetto va bene a tra un po' a presto ehm mentre Sonia torna qui da me magari un paio di parole ancora sulla counting room dato che vi ha lasciato in mano mia riguardo a questo dunque come lei vi ha mostrato ci sono tanti moduli di elettronica tanti cavi eh questi moduli questi cavi servono a svariate funzioni una che volevo menzionare è la seguente uno dei sistemi più importanti di CMS è il cosiddetto trigger trigger in inglese vuol dire grilletto ora la traduzione letterale non dice molto ma il trigger è uno dei sistemi fondamentali dell'esperimento ed è quello che eh in diretta come dire guarda alle collisioni che si creano all'interno di CMS e decide quali sono rilevanti e quindi quali noi vogliamo salvare per essere analizzate dai fisici come me per esempio e quali invece scartare ora il punto è perché scartare delle collisioni e terreno e altre il fatto è che LHC produce così tante collisioni fra protoni che non abbiamo lo spazio materiale su disco o su nastro per salvarle di conseguenza ci serve un sistema che ci dica in diretta quali collisioni sono tra virgolette interessanti e quali invece non lo sono e quindi vanno scartate e questo è quello che fa il trigger e il trigger è in parte anche basato nella counting room che avete visto un'altra cosa interessante è che forse sembra un po' controintuitiva è perché produrre un così grande numero di collisioni da non poter essere salvato e quindi bisogna fare questo tipo di scelte e il problema è che noi le collisioni che vogliamo studiare sono collisioni rare sono eventi che si verificano raramente in LHC di conseguenza quello che dobbiamo fare è generare tantissime di queste collisioni dopodiché la maggior parte verranno escluse dal trigger che verosimilmente sarà invece in grado di salvare le poche rare collisioni che ci interessano quindi questa è la ragione per cui abbiamo un sistema del genere dobbiamo produrre un incredibile numero di collisioni parliamo di una collisione ogni 25 nanosecondi è veramente un numero impressionante di collisioni al secondo ma sono necessarie perché appunto come dicevo quelle che ci interessano maggiormente sono in realtà spesso piuttosto rare credo che siamo ormai arrivati al momento delle domande infatti è quello che volevo dire Fabio siccome abbiamo la conclusione lasciamo spazio a delle domande assolutamente io sono qui e Sonia sarà presto di nuovo con me dunque prego che è collegato dal remoto che può fare le domande nella chat question and answers e poi non lo so magari cominciamo visto che è collegato anche Bari se avete delle domande da Bari e poi passiamo qui a Pisa vedo un dito che indicava qualcuno non ci sono domande da Bari no Roberto andate ho chiesto non c'è nessuno che vuole domande qui in sala da Pisa non siate timidi curiosità avete capito tutto a Sonia possiamo dire quando torno di far vedere l'evento Sì sì infatti Sonia è appena arrivata eccola qui appena si è entrata nella control room la prima cosa che è stata inquadrata e non so se l'avete visto era l'evento display che faceva vedere praticamente in diretta le collisioni che si stanno producendo in questo momento quindi quello è molto interessante è molto diciamo emozionante perché uno vede proprio collisioni che abbiamo in questo momento adesso stiamo prendendo dati naturalmente vengono scelte con sistemi di trigger eccetera e una ogni tanto viene proiettata sui schermi dove potete però è avvenuto a qualche secondo prima Roberto noi da Bari vi dobbiamo salutare perché il tempo a disposizione nella sala per noi è concluso ci sono altri eventi ringraziamo la guida al CERN ringraziamo anche voi a Pisa per la collaborazione e alla prossima visita d'accordo ciao grazie mille ciao grazie a voi ciao dunque qui non...